Tre persone sono state fermate dalla polizia Mont-La-Jolie ad ovest di Parigi nel quadro dell'inchiesta antiterrorismo sull'uccisione di due dipendenti delle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti i sospetti hanno un legame con La Rossi Abbalà, autore dell'uccisione, 25 anni, e che ha rivendicato la propria appartenenza all'ISIS. Dopo l'omicidio di Jean-Baptiste Alvin, comandante di polizia, e della sua compagna Jessica Schneider, segretaria amministrativa del dipartimento di polizia, e prima di essere ucciso dagli agenti, il killer ha avuto il tempo di postare un video in cui dichiarava di aver eseguito le indicazioni dell'emiro a Boubacar al-Baddadi. La nostra mobilitazione è ai massimi livelli contro la minaccia terroristica, ha detto il presidente francese François Hollande, è una questione di difesa dei nostri principi e valori, ma anche una lotta contro il terrorismo islamico e il fanatismo ovunque, ha sottolineato. Ieri, sui fatti di Montalajulis, si è svolto un acceso dibattito all'Assemblea nazionale. Il primo ministro, Manuel Valsa, ha così risposto alle richieste dell'opposizione che chiede un inasprimento delle misure antiterrorismo. Io non credo nella pena di morte, non credo a Guantanamo, né alla vendita di armi, perché so a che cosa può portare questo modello. Il ministero dell'Interno ha comunque annunciato, dopo un incontro con i sindacati delle forze dell'ordine, che gli agenti avranno il diritto di portare l'arma d'ordinanza fuori servizio anche dopo la fine dello stato d'emergenza il 26 luglio prossimo. Io vi ringrazio.